Allora, sono in sala 9, sto aspettando che mi portino via. Mi manchi già, sorella, non piangere per favore, io tipo per te lo sai. Sei la più forte qui, te lo rivedo dall'inizio, dalla prima sfida dei migliori dove ancora non credevi in te stessa e non sapevi che fare. Mi raccomando non abbatterti. Io sono contento, non pensare a me, pensa a vincere, resisti, so che puoi farcela. Io sarò contenta ogni difficoltà da fuori, ti penserò sempre. Ti voglio bene in giù, fra...